Ho avuto diverse difficoltà, soprattutto legate alla mia provenienza. Quando una persona si trasferisce all'estero o in un'altra città, la prima cosa fondamentale da fare è l'affitto di una stanza o l'affitto di una casa. E a quel punto, purtroppo nel vero senso della parola, ho ricevuto diverse porte in faccia, proprio perché dal momento in cui controllavano i documenti e vedevano che fossi italiano, dicevano no. Succede anche questo nella civile Ungheria al tempo del covid? Razzismo? No. Paura di contagio? Certamente sì. Il coronavirus ha condizionato il mondo e anche l'affascinante Butapest, la città tagliata in due dal Danubio e i Maggiari, che normalmente sono persone ospitali. Protagonista e vittima di questa storia è Valerio Vardaro, 30 anni, casertano, originario di San Brisco, un ragazzo dalla faccia pulita, un'ottima famiglia alle spalle, per bene e coraggioso quanto basta. tanto che lascia gli amici e la famiglia e decide di cercare fortuna in Ungheria, nella bella e tanto sognata Butapest ancora sonnolenta e deserta, come potete vedere nelle immagini che vi stiamo proponendo. Valerio, lei quando è partito esattamente da Gazerta per Butapest e perché? Lo scorso 10 marzo sono partito da Gazerta per trasferirmi qui a Budapest. Ci tengo a sottolineare l'importanza della data perché il 10 marzo l'Italia è stata dichiarata completamente zona russa. Qual è stata la sua prima impressione una volta arrivato a Budapest? Dunque, l'impatto con questa città all'inizio non è stato molto semplice. Ho avuto diverse difficoltà, soprattutto legate alla mia provenienza. L'italiano, in generale, veniva considerato come un ipotetico infettore. Non nascondo il disagio che ho percepito, soprattutto i primi giorni che mi sono trasferito qui. So che lei ha avuto dei disagi abbastanza sgradevoli. Quali e perché? Quindi posso dire tranquillamente che Budapest non mi ha accolto a braccia aperte, purtroppo, per molteplici motivi. Uno dei quali è soprattutto la mia provenienza, che purtroppo mi ha portato dei disagi. Quando una persona si trasferisce all'estero o in un'altra città, la prima cosa fondamentale da fare è l'affitto di una stanza o l'affitto di una casa. E a quel punto, purtroppo, nel vero senso della parola, ho ricevuto diverse porte in faccia. Proprio perché dal momento in cui controllavano i documenti e vedevano che fossi italiano, dicevano No, non ti affittiamo casa perché sei italiano. Allora ho avuto problemi con proprietari di casa, con ipotetici coinquilini. Altri problemi li ho avuti quando ti spostavi da un posto all'altro, all'interno dei mezzi pubblici, in metro, in tram, dal momento in cui sentivano la lingua italiana. Quindi quando parlavo al telefono, ad esempio, e si accorgevano che io fossi italiano, volontariamente loro purtroppo si allontanavano da me perché ero un possibile infettore. Ora come si trova? A distanza di due mesi, finalmente, posso dire che la situazione è cambiata ed è migliorata tantissimo, anche perché Budapest ha riaperto tutte le attività commerciali, quindi, diciamo, si vive maggiormente una vita normale. E quindi anche l'italiano non è più visto come un problema, ma come una risorsa. È tutto, Lorenzo Applauso, per caseltasera.it